Ciao, mi chiamo Carmen, sono di Verona e faccio la modella da quando avevo 13 anni. La mia passione più grande è il ballo, un ballo da quando ero piccola, e altre due cose che mi piacciono molto sono lo yoga e andare a camionare. La mia passione più grande è il ballo, un ballo da quando avevo 13 anni. Una delle cose che preferisco in assoluto del mio lavoro è viaggiare, avere la possibilità di sperimentare nuove culture e soprattutto cucine e cibi diversi. Senza nulla togliere la cucina italiana, che è la migliore del mondo, forse le più buone che abbia mai assaggiato sono la giapponese e messicana. Ovviamente in Giappone e in Messico, non al di fuori. La mia passione più grande è il ballo, un ballo da quando avevo 13 anni. La mia passione più grande è la mia passione più grande è il ballo, un ballo da quando avevo 14 anni. La mia passione più grande è il ballo, un ballo da quando avevo 13 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si sa mai in futuro potrei intraprendere una carriera in questo settore. Ringrazio la più bella d'Italia per questa opportunità e per questo titolo. Mi sono profondamente onorata. Saluto la mia famiglia, i miei amici e i miei followers. A presto. Grazie a tutti.